Il marito, boss dell'Andrangheta, è in carcere ristretto da sei anni in regime di 41 bis con una condanna definitiva per associazione mafiosa da scontare, ma lei percepiva il reddito di cittadinanza. Accade a Taurianova, nel Regino, dove i carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica di Palmi, distretta dal procuratore Ottavio Sferlazza, hanno scoperto 18 furbetti che usufruivano del sussidio pur non avendone diritto. L'erogazione, che ha provocato un danno erariale di 50.000 euro, è stata subito interrotta dall'Inps. La consorte del boss aveva dimenticato di segnalare che nel suo nucleo familiare era presente il marito, ma nelle maglie dei militari della compagnia di Taurianova sono finiti anche dei cittadini che lavoravano in nero pur intascando il reddito in bar, ristoranti o in cantieri, ma anche in una gestione di un'officina meccanica abusiva con diverse auto in attese e un parrucchiere che intascava il beneficio pur lavorando regolarmente anche se aveva formalmente chiuso l'attività quattro anni fa.